Musica Carabinieri uccide bandito in fuga, il tragico inseguimento nei pressi della 2 nel Salernitano, il militare chiarisce, il colpo è partito accidentalmente, la vittima albanese di 42 anni morta in ospedale. La procura di Salerno ha aperto un'inchiesta. Luigi, vita spezzata da Ucraino ubriaco, deve rispondere di omicidio stradale, il 28enne emigrato che ha provocato il tragico incidente a Pomigliano d'Arco, piombando a folle velocità sull'auto di tre ragazzi e risultato anche positivo alla cocaina. Mistero sull'ultima notte di Nicola, si indaga per far luce sulla morte del 20enne napoletano che ha perso la vita a Positano dopo una serata in discoteca. Ascoltate due amiche che erano con lui, ipotesi incidente causato da un malore. Traffico a Napoli, nuova rivoluzione, ancora cambiamenti per il traffico cittadino a causa dei lavori in corso Umberto. Si inizia la fase 2 dell'intervento per la metropolitana. Si temono tempi lunghissimi, giovedì cabina di regia per Bagnoli. Telesina, Mastella scende in campo, problema sicurezza sulla statale 372, un asse viario strategico per il Sannio e l'Alto Casertano. Il sindaco di Benevento chiama i parlamentari e amministratori e convoca un'assemblea. È l'ora di intervenire. Avellino, Venezia, avverte il PD. L'ex sindaco striglia il partito verso le amministrative del 10 giugno. Un errore, dice, celebrare il congresso provinciale. Si alimenteranno le divisioni. Troppi ritardi per le liste, così si va incontro alla sconfitta. Buonasera dal TG 696. In apertura c'è la cronaca. L'inseguimento, poi la fuga a piedi e il colpo di pistola. Esploso accidentalmente. La procura di Salerno ha aperto un'inchiesta sulla morte del bandito 42enne ucciso da un carabiniere che lo inseguiva nei pressi dell'autostrada 2. Intanto prosegue la caccia ai due complici. Giovanni Battista Lanzilli. È deceduto nel letto di ospedale del Ruggi d'Aragona di Salerno l'albanese 42enne, ferito da un colpo di pistola esploso accidentalmente da un carabiniere che lo inseguiva. Finisce in tragedia il conflitto a fuoco che ha visto coinvolto il bandito e il militare in servizio alla compagnia di Battipaglia. Il 42enne era giunto in gravi condizioni al nosocomio cittadino ed è stato sottoposto ad intervento chirurgico ma le ferite erano troppo gravi ed espirato alle prime luci dell'alba. La procura di Salerno intanto ha aperto un'inchiesta per ricostruire la dinamica della tragedia. Tutto è avvenuto in pochi concitati minuti sull'autostrada A2 del Mediterraneo nei pressi dello svincolo di Ponte Cagnano. Una Fiat Croma rubata con a bordo tre persone fra cui il 42enne albanese hanno abbandonato il veicolo inseguiti dai carabinieri per darsi alla fuga a piedi. Secondo la ricostruzione dell'arma la vittima si sarebbe girata all'improvviso in direzione del carabiniere che, buttandosi a terra, avrebbe fatto partire involontariamente un colpo dalla pistola d'ordinanza che ha centrato al torace il presunto bandito. L'automobile con i tre uomini a bordo è stata agganciata dalla gazzella dei carabinieri battipagliesi sulla statale 18 dopo una segnalazione della polizia stradale. Intanto sono ancora in corso le ricerche delle due persone che si trovavano a bordo della Fiat Croma insieme alla vittima. I fuggiaschi sono riusciti per ora a far perdere le proprie tracce. L'auto rubata sarebbe già stata segnalata in altre occasioni da alcuni residenti come veicolo sospetto per una serie di furti messi a segno nella piana del Sele. A folle velocità sotto effetto di alcol e cocaina travolge tre ragazzi in auto. Uno di loro è morto sul colpo nella tragica notte di Pomigliano. Ora l'Ucraino, 28enne, è accusato di omicidio stradale. Sentiamo Simonetta Ieppariello. Si è tenuta nel pomeriggio al Policlinico Federico II di Napoli l'autopsia sul corpo straziato di Luigi Cangianiello. Il 28enne morto in un incidente nella notte tra Pasqua e Pasquetta nel centro di Pomigliano d'Arco. È attesa intanto in paese la salma per i funerali. Ad Ottaviano è stato proclamato il lutto cittadino dal sindaco. Intanto nella frazione San Gennarello si prega per Giovanni. L'altro ragazzo è rimasto gravemente ferito e ora è in fin di vita in ospedale. Il ragazzo è sedato, è in coma farmacologico. Il terzo amico, Francesco, è rimasto miracolosamente illeso nel violento impatto in via Terracciano alle 2.50 del mattino. L'auto su cui viaggiavano i tre ragazzi, i tre amici da sempre, è stata letteralmente travolta da una BMW guidata a folle velocità da un uomo ucraino di 28 anni che sarebbe risultato positivo ai test di alcol e cocaina. Luigi Cangianiello è morto sul colpo mentre ancora sono gravi le condizioni di Giovanni che resta in coma all'ospedale San Giovanni Bosco di Napoli. Luigi Cangianiello viaggiava seduto sul sedile posteriore, Giovanni era la guida, Francesco di fianco. La vettura, dopo la collisione, è finita a sbattere contro un chiosco di cemento un barallo aperto per fortuna chiuso da talora. L'Ucraino è stato arrestato con l'accusa di omicidio stradale, non ha riportato ferite di rilievo nemmeno la moglie e neanche il suo amico che viaggiavano a bordo. Il dolore intanto in paese è tanto, c'è la fila dinanzi la porta di Aldo, il padre di Luigi per porgergli le condoianze. Silenzio e dolore in tutto Ottaviano per la tragica fine di un ragazzo per bene. E ci sono ancora tanti misteri da chiarire nella morte di Nicola Marra, il ventenne napoletano che ha perso la vita a Positano dopo una serata in discoteca. Il suo cadavere è stato trovato in fondo a un burrone, un volo di 30 metri che non gli ha lasciato scampo. Sono state ascoltate le due amiche che erano con lui. Sentiamo. Ci sono ancora molti punti oscuri da chiarire per consentire ai carabinieri della compagnia di Amalfi che indagano di ricostruire la dinamica di una tragedia che ha sconvolto tutti. Il corpo senza vita di Nicola Marra, vent'anni originario di Napoli, è stato recuperato in fondo a un dirupo grazie a un elicottero dei Vigili del Fuoco e dagli esperti del Soccorso Alpino della Campania. Un volo di 30 metri dal sentiero che da Positano conduce a Monte Pertuso che non ha lasciato scampo allo studente di giurisprudenza iscritto alla Luis. Innanzitutto bisogna capire cosa ci facesse lassù Nicola che nella notte tra sabato e domenica era in compagnia di due amiche alla discoteca Music on the Rocks. Gli inquirenti ritengono che in cima Nicola sia arrivato da solo dopo aver bevuto molto. Ad un certo punto della serata il ventenne napoletano si è allontanato dalla discoteca senza giubbotto, portafogli, chiavi dell'auto e cellulare. L'ultima volta in cui è stato immortalato da una videocamera di sorveglianza erano le 4.30 del mattino poi più nulla. I carabinieri vogliono capire chi sia stato l'ultimo a vedere vivo Nicola che nel lungo tragitto dal locale allo strapiombo fatale si sarebbe tolto anche la camicia. Due amiche sono state ascoltate dagli inquirenti ma non avrebbero offerto risposte utili a chiarire i contorni di una tragedia ancora avvolta nel mistero. La famiglia molto conosciuta a Napoli ha espresso piena fiducia nell'operato della magistratura che intanto ha aperto un'inchiesta e ha disposto l'autopsia sul corpo del ragazzo. Parte la nuova rivoluzione del traffico a Corso Umberto a Napoli inizia la fase 2 dei lavori per la metro ma si temono tempi lunghissimi. Rossella Strianese. Sarà un'estate infuocata sotto il profilo della mobilità urbana a Napoli. In Corso Umberto scatta la fase 2 dei lavori per la stazione della metropolitana linea 1 di piazza Nicola Amore. Nei prossimi giorni il cantiere sarà ribaltato. Dopo quasi un anno sarà di nuovo possibile svoltare dalla piazza cosiddetta dei quattro palazzi direttamente su Via Duomo riaperta a senso unico a salire verso Via Foria. Le transenne si sposteranno al lato opposto sarà chiuso dunque il tratto di strada che collega Corso Umberto a Via Marina. Il nuovo piano traffico dovrebbe durare dieci mesi ma si teme che i tempi diventeranno molto più lunghi. I commercianti di Via Duomo da diversi anni lamentano difficoltà. Diverse botteghe storiche hanno dovuto chiudere. il nuovo dispositivo di traffico doveva partire oggi ma è slittato a fine mese. Scatterà dal 26 aprile. Per il Via Libera si è in attesa del parere della soprintendenza. La fermata Duomo della metro infatti posa su dei veri e propri tesori archeologici portati allo scoperto durante gli scavi. Nei prossimi giorni il comune emanerà l'ordinanza sulla nuova viabilità. A breve apre anche il cantiere per il restyling di piazza Mercato che rientra per la parte architettonica nel progetto del Centro Storico Unesco. I lavori dovrebbero riprendere a fine aprile e proseguire per i successivi sei mesi sulla parte centrale della piazza. Cantiere aperto per 45 giorni invece sull'area antistante Palazzo Ottieri. Su quest'ultimo punto è allo studio un piano traffico straordinario. Il giovedì 5 aprile nel pomeriggio si svolgerà nel Palazzo della Prefettura di Napoli una riunione nella gabbina di regia per Bagnoli. Alla riunione parteciperanno il ministro per il mezzogiorno Claudio De Vincenti il commissario Salvo Nastasi l'AD di Invitalia Domenico Arcuri e i rappresentanti della regione campania del comune di Napoli. L'ultima riunione della cabina di regia si era tenuta prima di Natale al termine della quale era stato annunciato che nel 2018 sarebbe iniziata l'attività di rimozione integrale delle Eternit e dell'amianto sotto la superficie del sito di Bagnoli. La cabina di regia sarà preceduta si apprende da una riunione sempre in prefettura della conferenza dei servizi proprio in merito al progetto per la rimozione dell'amianto prossima tappa del crono programma per la bonifica di Bagnoli. Problema sicurezza sulla statale 372 la telesina tratta strategica tra il Sannio e l'Alto Casertano il sindaco Mastella chiama parlamentari e amministratori e convoca un'assemblea vediamo Telesina ancora nella bufera la tratta strategica per i territori della provincia di Benevento e dell'Alto Casertano come è noto è interessata da un progetto di raddoppio delle corsie più volte approvato ma non ancora realizzato parte da qui il sindaco Clemente Mastella che ha convocato venerdì a Palazzo Mosti un'assemblea degli amministratori e parlamentari delle province di Benevento e Caserta per affrontare il problema della sicurezza della strada statale 372 che collega Benevento a Cajanello le abbondanti precipitazioni invernali precisa il sindaco hanno reso ulteriormente disastrose le condizioni del manto stradale già costantemente messo alla prova dal traffico intenso di auto e mezzi pesanti inoltre la segnaletica stradale risulta carente soprattutto all'altezza degli svincoli e non adeguata a limitare i rischi tipici di una strada con le caratteristiche della Benevento Cajanello per questo motivo il sindaco Mastella ritiene che sia necessario mettere in campo un'azione comune per chiedere un'accelerazione delle procedure di raddoppio delle corsie per proporre all'ANAS nelle more del suddetto intervento l'adozione di misure in grado di elevare il livello di sicurezza dell'arteria come ad esempio il miglioramento delle condizioni del manto stradale l'introduzione di limiti di velocità omogenei e coerenti con il tipo di tratta l'aumento della segnaletica stradale soprattutto all'altezza di svincoli e punti critici l'interdizione al traffico di mezzi pesanti o altre misure che dovessero emergere nel corso dell'Assemblea a cui oltre ai sindaci dei comuni sanniti e casertani che insistono sull'arteria sono stati invitati anche i presidenti delle province di Benevento e Caserta i parlamentari delle due province il presidente dell'aggiunta regionale della Campania e i vertici dell'ANAS i carabinieri del Nipaf il gruppo forestale di Avellino e quelli della stazione di Solofra insieme ai medici veterinari dell'Asle di Salerno hanno proceduto alla liberazione di due esemplari di volpe si tratta di un maschio e una femmina sottoposti a sequestro lo scorso 22 marzo sempre a Solofra gli animali sono stati affidati al centro nel recupero animali selvatici di Napoli per la riabilitazione e la reimmissione in natura ad eccezione dei sei cani che sono stati trasportati presso il canile convenzionato del comune di Solofra i veterinari dopo aver curato e constatato che i due esemplari di volpe erano quindi pronti e in grado di riadattarsi nuovamente alla vita libera hanno provveduto a vaccinarli e microcipparli per la successiva reintroduzione nell'habitat naturale un errore il congresso provinciale alla vigilia del voto in questa fase il PD doveva essere già pronto con le liste elettorali l'ex sindaco di Avellino Enzo Venezia ospite della rubrica a punto di vista fa un'analisi sulle prossime amministrative del 10 giugno un errore il congresso provinciale alla vigilia del voto in questa fase il PD doveva essere già pronto con le liste elettorali è severa l'analisi di Enzo Venezia ex sindaco di Avellino rispetto alla strategia che il PD avellinese sta mettendo in campo in vista delle amministrative del 10 giugno il congresso in questa fase secondo Venezia ospite di punto di vista sul canale 696 TV rischia solo di acuire le divisioni interne a viataiamento alla vigilia di una competizione elettorale non si fanno congressi perché i congressi portano una serie di diversità e anche di conflittualità al suo interno che potrebbero anche trasferirsi sul piano elettorale per cui c'è bisogno di tempo per recuperare ma il PD uscito con le ossa rotte dalle elezioni politiche deve accelerare per la scelta del candidato sindaco e soprattutto per l'individuazione di una nuova classe dirigente per rinnovare la rappresentanza in consiglio comunale si rischia ora per mancanza di tempo di ricandidare tutti i buoni e cattivi qui si va a tentoni si va senza una strategia e alla fine sarà costretto il partito come democratico spero di no ma di ricandidare tutti buoni e cattivi e questo sarebbe un errore perché il cittadino non vedendo che c'è un minimo di modifica del suo gruppo dirigente e non c'è questa voglia di cambiamento che il partito non ha offerto potrebbe continuare a non votare il partito democratico dal figlio indagato al consulente condannato a Salerno e 5 Stelle all'attacco sulla nomina di Luigi della Greca ad assessore al bilancio al posto di Roberto De Luca i grillini contro il governatore mentre il neoassessore assicura sono solo un tecnico nemmeno il tempo di insediarsi che il neoassessore Luigi della Greca deve fare i conti con le prime polemiche il sostituto di Roberto De Luca a Salerno finisce nel mirino dei 5 Stelle che ricorda la condanna della Corte dei Conti per la nomina senza averne i titoli di Felice Marotta a vice segretario del Comune di Salerno all'epoca dei fatti contestati della Greca era dirigente del Comune di Salerno le parole del capogruppo 5 Stelle Regione Gennaro Saiello ma nella condanna è in buona compagnia degli ex assessori Avossa De Maio Picarone e Maraio per i 5 Stelle con De Luca alla guida di Palazzo Santa Lucia chi esce da una delle due sedi istituzionali entra automaticamente nell'altra in una specie di Tornello che vede promossi i condannati e la reprimenda dell'esponente pentastellato Della Greca intanto assicura che già lavoro per redigere la proposta di bilancio di previsione e ha ribadito di essere un tecnico senza alcuna ambizione politica Stamattina sono stato già all'ufficio ragioneria quindi mi sono fatto consegnare un poco tutta la documentazione del bilancio che dovrò guardarmi in questi giorni per portarlo in commissione e poi al consiglio comunale quindi operativo al 100% Il Palazzo di Città è stata la mia seconda casa le preoccupazioni ovviamente ci sono però lavorando io sono fiducioso che le cose si possono affrontare e si possono risolvere io voglio solo aggiungere che come giustamente ha detto il sindaco è una nomina tecnica io sarò un assessore tecnico quindi ovviamente l'attimo in cui verrà meno l'esigenza di un tecnico io immediatamente farò un passo indietro quindi da questo punto di vista nessuna preoccupazione non ho nessuna intenzione di svolgere ruoli politici guerra dei fuochi scarcerati gli imprenditori Pellini gli ambientalisti protestano davanti al tribunale di Napoli hanno protestato davanti al tribunale di Napoli gli ambientalisti della terra dei fuochi che si oppongono alla scarcerazione dei fratelli Cuono Giovanni e Salvatore Pellini i tre imprenditori dello smaltimento dei rifiuti condannati l'anno scorso in via definitiva per disastro ambientale nella terra dei fuochi i Pellini dovevano scontare sette anni di reclusione ma per effetto di una serie di sconti di legge sono usciti di galera dopo appena dieci mesi una scelta che ha spinto associazioni e cittadini a manifestare la propria rabbia seppur pacifica fuori il palazzo di giustizia di Napoli cioè come è possibile che il reato ambientale oggi non venga considerato un reato grave è gravissimo è gravissimo perché mina la salute delle persone mina la vita delle persone ecco perché noi oggi ci siamo indignati e pensiamo che ovviamente sia importante iniziare una vera e propria pressione politica dal basso affinché si avvieno dei percorsi la giustizia deve prendere provvedimenti e deve mettere queste persone in galera vogliamo che i fondi confiscati alla famiglia Pellini vengano immediatamente ridestribuiti e impiegati per le bonifiche dei nostri suoli e per un programma straordinario in risposta all'emergenza sanitaria che viviamo la corte di Cassazione ha scritto nella sentenza che questi soggetti hanno provocato sul nostro territorio e nei territori limitrifi un vero e proprio disastro ambientale io ritengo che sia stato premiato il silenzio dei Pellini su questioni gravissime che coinvolgono i vertici delle istituzioni perché una disposizione del genere la ritengo inaccettabile oltre ogni ragionevole dubbio sta per essere riconvertito in polo oncologico l'ospedale di Sant'Agata dei Goti che sarà accorpato al rumbo di Benevento ma la neosenatrice Leonardo e il marito il sindaco Mastella dicono potrebbe perdere il pronto soccorso giovedì intanto un sit-in di protesta non un atto contro qualcuno ma una manifestazione di interesse e attenzione per il territorio così la senatrice azzurra Sandra Leonardo definisce il sit-in che ha proposto per giovedì pomeriggio presso la struttura ospedaliera Sant'Alfonso Maria dei Liguori di Sant'Agata dei Goti per discutere di intesa con i sindaci dell'area del futuro dell'ospedale per il quale si prevede una riconversione a polo oncologico ma che come si evince dall'atto rischia però di perdere il pronto soccorso attivo dovrebbe accadere non subito ma in qualche anno in ogni caso prosegue la senatrice Leonardo si tratta di un modo per sguarnire la nostra sanità non solo l'ospedale di Sant'Agata questo accorpamento rischia di sguarnire anche il rumo di Benevento ed è per questo che insieme agli amministratori del territorio vogliamo comprendere bene le azioni che saranno messe in campo e intanto il sindaco di Benevento Clemente Mastella sullo stesso argomento ha convocato un'assemblea dei sindaci per discutere del nuovo atto aziendale e spiega a Sant'Agata rischia di saltare anche se non è l'immediato ma dopo due anni il secondo soccorso invece secondo me il soccorso deve restare vita natural durante cioè io l'ho visto alle mie vicende se non sono stato il pro soccorso a Piedmontematese avrei avuto un maggiore rischio del problema quindi questo vale per ogni cittadino peraltro là ci sono quasi 15.000 interventi all'anno allora con tutti rispetto al polo oncologico ma è una struttura che spero diventi di eccellenza ma al tempo stesso è una struttura che diciamo è limitata non è un migliaio di carrioli ma è un migliaio di carrioli mio padre è stato male per 20 giorni dopo controlli superficiali e una visita tardiva in ospedale prima di essere rimandato in carcere con la diagnosi di infezione intestinale la figlia di Aniello Bruno il detenuto 50enne di Angri morto in carcere a Salerno nella notte di Pasqua chiede giustizia e con lei i familiari dell'uomo che raccontano del congiunto gravemente malato tanto da arrivare a perdere 18 kg in poco tempo abbiamo chiesto spiegazioni alla direzione del carcere senza avere risposta alla denuncia dei parenti la magistratura ha aperto un'inchiesta mentre i radicali salernitani hanno parlato di diritti umani violati tra le mura di Forni è ancora alto il livello di smog ad Avellino a nulla sono serviti i correttivi dell'amministrazione comunale l'ambientalista Ugo Santinelli ci spiega che cos'è che non ha funzionato in città non c'è tregua per lo smog in città la centralina dell'agenzia regionale per la protezione ambientale ha registrato il ventesimo sforamento delle concentrazioni medie giornaliere delle PM10 il capoluogo avellinese non aveva mai raggiunto un livello di inquinamento così alto a nulla è servito il protocollo firmato lo scorso 26 gennaio dal comune capoluogo e dai sindaci dei comuni dell'Interland l'ambientalista Ugo Santinelli ci spiega perché le misure adottate dal comune sono state inefficienti ma la prima cosa da chiedersi e quindi per formulare una domanda all'amministrazione è questa contraddizione fra l'efficienza delle loro reiterate domeniche ecologiche e l'efficacia di questa misura naturalmente è una domanda totalmente retorica non c'è altra misura che quella di riprendere da capo la questione dei trasporti pubblici in città di concludere il progetto della metropolitana leggera che potrà anche non piacere i pali sono antiestetici ma che potrebbe essere una misura efficace per togliere una quota di trasporto sugli autoveicoli privati e spostarla su quelli pubblici nasce il co-housing Napoli Cinema un ufficio in pieno centro messo a disposizione dal comune per offrire a produzioni nazionali e internazionali servizi essenziali agli operatori della settima arte Rossella Strianese anche se Palazzo Cavalcanti figura tra i beni immobili messi in vendita dal comune di Napoli per ora il monumentale Palazzo di Via Toledo diventa ufficialmente la casa del cinema o meglio il co-housing Cinema Napoli uno spazio uffici destinato a diventare campo base per le grandi produzioni che già interessano il territorio come Gomorra l'amica geniale o i bastardi di Pizzo Falcone Il dovere delle istituzioni e responsabilità di noi tutti è operare in modo tale che questo momento così favorevole possa durare nel tempo e quindi abbiamo cercato di mettere a sistema in questo spazio questa idea del lavorare insieme il co-housing significa questo uno spazio comune in cui lavorare insieme Al taglio del nastro anche Domenico Procacci produttore della Fandango Riccardo Tozzi per Catleia e il vice direttore di Rai Fiction Francesco Nardella nonché i registi Francesca Comencini e Stefano Incerti negli ultimi tre anni il capoluogo partenopeo ha accolto quasi 500 produzioni nazionali ed internazionali ma è da tempo che abbiamo voluto l'ufficio cinema del comune di Napoli che prima non c'era questo palazzo Cavalcanti già da tempo è stato luogo di sperimentazioni grazie anche a Gaetano Di Vaio che ha fatto un ottimo lavoro una grande opportunità attraverso il regolamento che consenterà la fruizione di questi luoghi abbiamo già fatto un primo incontro con tutti gli operatori del cinema perché vogliamo decidere e scegliere insieme a loro rendere sempre più agevole e conveniente investire su Napoli poi i risultati danno ragione a Napoli basta vedere il Davide Donatello per capire come questa città deve grande gratitudine alle sue artiste e ai suoi artisti e quindi noi cerchiamo di fare il massimo era l'ultima notizia il TG termina qui grazie di averci seguito ora ci sono le previsioni meteo e a seguire il TG Sport grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti.